Cimitero Saturo a Battipaia. Soltanto 5 loculi e una fossa distinta sono rimasti liberi nel Camposanto Cittadino. Il dirigente comunale del settore finanziario ha racimolato 80.000 euro per investirli nella realizzazione di nuove sepolture nell'area definita Quarto Cimitero, che potrebbe ospitare 80 nuovi loculi e 96 nicchie. I comunali vorrebbero procedere con il cottimo fiduciario, ma la sindaca spinge per una procedura d'evidenza pubblica. In ogni caso, la questione è più urgente che mai, vista l'esigua disponibilità in una città che conta più di 50.000 abitanti e con un tasso di mortalità giornaliero di 1,6 unità. A queste problematiche si aggiungono le costanti polemiche per la cattiva manutenzione del cimitero. Foglie secche si accumulano lungo i viali, erbacce rendono illegibili i nomi dei defunti, anche le aiuole dell'area nuova sono lasciate ad un quasi completo abbandono. I cittadini chiedono interventi periodici e non solo straordinari, manifestando il loro malcontento sui social ed evidenziando quanto anche la morte a Battipaia sia tutt'altro che serena.